Il sindaco metropolitano di Napoli Luigi De Magistris ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del nuovo campetto di calcio e della palazzina degli spogliatoi del liceo scientifico Kant di Melito. Si tratta, detto De Magistris, di uno dei tanti interventi che la città metropolitana di Napoli ha realizzato per consentire agli studenti di disporre di spazi anche esterni per realizzare in assoluta sicurezza non solo le attività didattiche ma anche quelle sportive e culturali. Alla cerimonia era presente anche il vice sindaco delegato alla scuola Domenico Marrazzo che ha sottolineato quanto grande sia lo sforzo finanziario e operativo dell'ente di Piazza Matteotti per garantire in questo periodo di pandemia le migliori condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni in presenza. Complessivamente sono stati spesi per la realizzazione delle opere di ristrutturazione circa 100.000 euro. All'evento era presente anche il consigliere metropolitano Raffaele Cacciaputi. Adesso a questo momento di resistenza e di salute.